Non solo processi tradizionali, soprattutto quando si litiga su contratti bancari, proprietà, affitti e condominio. La giustizia alternativa è entrata negli abitudini degli italiani. Sono sempre di più le imprese e i cittadini convinti che risolvere un contenzioso con la mediazione al posto della causa civile sia un metodo rapido ed efficiente. Sebbene a livello legislativo in Italia sia stato fatto molto sul fronte della mediazione civile e commerciale, però bisogna ancora attuare con il cambiamento culturale che è necessario per recepire questi strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. In Italia, nell'ultimo anno, sono state oltre 22.000 le domande di mediazione presentate agli sportelli delle Camere di Commercio, di queste 418 solo a Firenze. Con questi numeri era naturale che una delle 40 tappe del Forum Mondiale sull'accesso e sulla qualità della giustizia arrivasse in Italia prima della conclusione di Londra e sarà proprio il capoluogo toscano ad ospitare questo appuntamento venerdì 9 giugno al Teatro della Pergola. È importante perché si parla di un tema centrale, quello della giustizia, non solo e non tanto per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini, ma anche per la tutela delle imprese. Sappiamo infatti che una giustizia che arriva in ritardo non soddisfa ovviamente mai pienamente gli interessi e i diritti dei cittadini e delle imprese. Ecco che allora orientarsi e andare verso metodi alternativi di risoluzione delle controversie contribuisce a veramente aiutare anche le imprese a programmare la loro attività e quindi appunto a svilupparsi sui territori dove operano.